Grazie, è stato detto molto perché i dati che abbiamo a noi sono i dati, gli stessi dati della grado di commercio, questa è una situazione un po' così di chiaroscuro, abbiamo dei dati positivi, dei dati negativi, ma non per i progetti, ma anche all'interno delle stesse aziende, non per i progetti, ma anche all'interno delle stesse aziende, speriamo che la produzione risponda a un'attività che ne vado e che almeno questo possa in qualche modo avvenire la regione, speriamo anche che questo risponda a un aumento di prezzi, cosa che mi sembra piuttosto difficile, anche se non piccabile, ma adesso è completamente importante, i nostri comprenditori stanno facendo dei grossi sforzi, stanno facendo dei grossi sforzi, dotandosi di strutture, dotandosi di fattori proprio, comunque migliorando, aumentando la produzione, migliorando le aziende attraverso i dati nuovi, eccetera, quindi specializzando, io posso, sono ringraziato in questo momento, sia il primo mezzo, sia la vice di tempo, poi l'altro mi fa capire che i rappresentanti partono con il stesso linguaggio, diciamo noi, di queste cose, di queste cose che ho voluto dire io, e questo non è assolutamente importante. Un'ultima cosa, mi fa piacere di queste iniziative che vengono divulgate il più possibile, perché anche per convincere i sforzatori, per convincere i venditori, invece i negoziati, perché, attenzione, gli sforzatori fanno così, ma a qualche volta nei negozi dei paesi non si trovano loro in un porto, nei negozi dei ventagli dei paesi non si trovano loro in un porto, perché questo è un'attività, 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 da tutto, ma non è. E quindi io credo che una strada ottima, buonissima, con una chiave di uomo, forse, per entrare in questo momento, è proprio di garantire noi che gli sforzatori, del possibile, le nostre portate, in modo che saranno loro stessi, perché chiedere al sforzatore dove andranno, chiedere a loro che andranno, chiedere ai veneziani dove andranno, di trovare, assolutamente, grazie a voi.